Ti guardano e ti chiedono ma torno a casa io, dei nipotini appena nati li riesco a rivedere ancora? Tu devi, oltre a dare la risposta, cercare di supportare queste persone e aiutarle. Abbiamo visto purtroppo tantissime persone che magari subito stavano bene e poi nel giro di due o tre ore hanno avuto una decaduta molto importante. Ho visto tante persone purtroppo morire, persone che hanno salutato via videochiamata i loro parenti, tante persone che non sono neanche riuscite a salutare i loro parenti, i loro cari, i loro amici. La parte umana, secondo me è la parte più difficile di questa situazione. Ai loro occhi sembriamo quasi degli astronauti, con la tuta, questi occhiali, insomma loro vedono solamente i nostri occhi, anche un sorriso eccetera, si fa fatica a darlo al paziente. La cosa più importante è stato il supporto psicologico dato a queste persone, anche semplicemente prendergli una mano, fare due chiacchiere con loro. Sicuramente questo ha aiutato molto loro, ma in un certo senso credo anche noi stessi, perché comunque è un'esperienza che va a modificare anche il tuo essere, il tuo carattere.